Ciao a tutti, oggi è l'8 maggio 2018, è la festa della mamma e mi trovo qui ai giardini pubblici, questi della stazione, sono esattamente davanti a via San Francesco d'Assisi dove in questo punto qua alcuni giorni fa, la settimana scorsa, si è rotto un ramo di una pianta, mi era stato comunicato che sarebbe stata tolta subito, vedete? Però invece dopo una settimana è ancora qua. Qual è la differenza tra un'amministrazione pubblica e un'amministrazione privata? La differenza è che nell'amministrazione privata le cose vengono fatte subito, se non vengono fatte lo stesso giorno, vengono fatte il giorno dopo. Nell'amministrazione pubblica invece, se non viene fatto oggi, possono passare anche sei mesi che la roba è ancora qua. Questa è la differenza, perché bisogna decidere che cosa fare, chi deve fare, perché deve fare e vedere se ci sono i soldi per fare, che non è che vanno a calcolare, io ho quattro persone che sono stipendiate, ovvero che sono già pagate e possono venire qui tranquillamente a fare il lavoro. No, bisogna stanziare i lavori. Allora, facendo così, quanto vengono a costare i lavori pubblici? Questa è una domanda che io pongo. Perché quando è caduto questo ramo qua, il giorno dopo non si è mandata la gente a togliere, che tra parentesi, guardate qui, c'è un ramo che è appena appoggiato, questo qua, vedete, questo qui che è appena appoggiato, che potrebbe anche cadere. E magari c'è uno sotto che sta pisciando, perché qui vengono anche a pisciare contro gli alberi, che si prende il ramo in testa. Possibile che non ci sia cognizione in questo comune per far fare i lavori? Occorre anche usare il cervello per tante cose. Va bene, io vi lascio, ci si vede un altro giorno in un altro video. Adesso vogliamo un po' vedere, vado un po' vicino sotto la pianta, vedete? Qui c'è un pezzo, lì c'è un ramo, adesso ci giro attorno, spero che il ramo appoggiato non mi cada in testa proprio in questo momento. Vedete? Vedete sto ramo lì? È solo appoggiato. Andare a toglierlo? Sì, è troppo a fatica, eh? Magari quando marcisce diventa più leggero e si porta anche via a spalla. Eh? Ok. Dai giardini pubblici, dal lato di Corso Crimea, questi qui sono i cessi comunali, vedete? E vi saluto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.